Ed ora le aspettative sono tutte per la fase 2, dopo la conclusione della prima fase della sperimentazione clinica che prevede il trapianto di cellule staminali cerebrali umane in 15 pazienti affetti da sclerosi multipla secondaria progressiva. È la prima volta al mondo. L'ultimo paziente è stato trattato il 20 maggio. Posso comunque già anticipare che qualche risultato positivo sui pazienti sia visto, non sosteniamo e non possiamo sostenere che sia l'effetto diretto delle cellule. Però sicuramente non gli abbiamo fatto male e qualcosa di positivo si è visto. Ci sono gli elementi oggettivi per avere speranza e soprattutto quelli tecnici per poter proseguire. La sperimentazione di fase 1, coordinata e finanziata dalla Fondazione e dall'Istituto di Ricerca, Casa Sollievo della Sofferenza e dalla Onlos Revert, era cominciata nel gennaio 2018 con il ricovero del primo paziente. È il primo passo verso lo sviluppo di un protocollo sperimentale per trattare i pazienti di sclerosi multipla con il trapianto di cellule staminali cerebrali umane di grado clinico. I 15 pazienti previsti nel protocollo sono stati suddivisi in quattro gruppi e trapiantati con dosi crescenti di cellule. Gli ultimi sei hanno ricevuto il dosaggio più elevato, pari a 24 milioni di cellule. Tutti i pazienti sono stati dimessi dopo 48 ore di osservazione in seguito al trapianto. Non ci sono stati effetti collaterali che è quello che stavamo cercando di determinare. Seguiremo ora i pazienti per un altro anno, alla fine di questo anno se non ci saranno state manifestazioni negative, depositeremo la domanda per una fase 2 su 60 pazienti per cercare di sviluppare un trattamento terapeutico.